Madame Presidente, signor Secretario di Stato, onorevoli deputati, in questi anni molte illusioni europee sono crollate, ad esempio il fatto che la pace fosse eterna, che il benessere economico potesse essere più importante per Putin che non la distruzione dell'Ucraina libera e democratica, l'illusione che da sola l'Europa stesse facendo abbastanza sul piano della sicurezza, da tutti i punti di vista, militare, cibernetico, eccetera. Se ci guardiamo intorno vediamo però che tutte le illusioni sono ormai sfatate, il dividendo della pace è stato sfruttato da Putin per far scoppiare questa guerra e ora il mondo è diventato più pericoloso, molto più che tante generazioni fa. La guerra brutale di aggressione all'Ucraina è entrata ormai nel suo terzo anno, è più intensa e brutale che mai. Abbiamo visto la potenza e il potenziale dell'influenza dei regime autoritari, come ad esempio le forniture di munizioni dalla Corea del Nord alla Russia, l'Iran usa i droni e una serie di altre tecnologie per danneggiare in maniera grave le città e i cittadini ucraini. Il continuare poi della guerra a Gaza e la destabilizzazione su Gargaskar e tutto il Medio Oriente indicano che siamo in un'epoca di insicurezza e di conflitti che vanno al di là di queste regioni direttamente colpite e vediamo anche il continuo aumentare della concorrenza economica e della sua distorsione che comporta una forte o forti rischi alla sicurezza europea. Quindi per essere schietti, come ha detto il primo ministro finlandese lo scorso mese, l'Europa deve svegliarsi e io aggiungo rapidamente. Sappiamo del resto che sono in gioco tante cose, la nostra prosperità, la pace e dobbiamo comportarci di conseguenza, dobbiamo iniziare a lavorare al futuro dell'architettura di sicurezza europea in tutte le sue dimensioni e con la rapidità e il coraggio necessari, perché in realtà non è che i conflitti siano nati di colpo dal 2022, le minacce alla nostra sicurezza, al benessere, al nostro stile di vita hanno varie forme, alcune le conosciamo, altre sono più sibilline, pensiamo all'interferenza politica, alla riduzione di certe politiche, l'eliminazione degli autori ostili della nostra infrastruttura critica. Insomma noi europei dobbiamo stare in guardia e non parliamo soltanto di schivare le ballottole sul capo di battaglia ma di stare attenti in tutti gli ambiti della nostra società. La buona notizia è che in realtà abbiamo iniziato per tempo a prepararci. Questi anni sono serviti infatti non soltanto per far crollare certe illusioni ma anche per far cadere tante illusioni intorno all'Europa. la nostra unità non trarrebbe nel caso di una guerra sul nostro continente. Le nostre divisioni emergono nel fornire gli aiuti militari. In questi ultimi due anni l'Europa ha in realtà dimostrato che continuerà a sostenere l'Ucraina per tutto il periodo che servirà e ha anche dimostrato che un'Europa più sovrana non è un'utopia e su questo voglio essere chiara. La sovranità europea rafforzerà anche i nostri partenariati, non condizionerà mai la necessità dell'alleanza della Nato. Anzi, un'Europa più sovrana, soprattutto sul fronte della difesa, è fondamentale per il rafforzamento della Nato stessa. Per questo che sono lieta di apprendere che la Svezia presto diventerà un alleato della Nato. Mi congratulo con Olaf Christensen, primo ministro svedese, per il momento storico in cui sta entrando il suo paese. La sovranità europea consiste nel prendersi delle responsabilità innanzitutto riguardo a ciò che è fondamentale e esistenziale per noi tutti. Ed è in gioco la nostra capacità ma anche la nostra volontà di difendere i nostri interessi e valori, noi stessi in prima linea. L'agenda di Versailles subito dopo l'inizio della guerra aveva proprio questo obiettivo, cioè ridurre le dipendenze strategiche in settori chiave come l'energia, le tecnologie chiave, i semiconduttori, ricorderete l'esempio, ma anche le capacità economiche e ovviamente anche la difesa. Gli Stati membri si sono impegnati in questo. La missione navale della settimana scorsa doveva avere l'obiettivo proprio di garantire la libertà di navigazione, che è la spina dorsale del commercio globale in uno dei vaccini più importanti, più critici e anche riguardo al pacchetto di finanziamento per la difesa con un aumento del 20% già l'anno scorso. La Nato ha inoltre appena annunciato una previsione secondo cui 18 dei suoi membri quest'anno rivedranno a rialzo al 2% la spesa della difesa rispetto ai tre membri che arrivavano a questo livello dieci anni fa. E poi che capacità e progetti comuni saranno oggetto di sforzi comuni. Lo strumento della pace ha mobilitato oltre un miliardo di euro a sostegno delle forze armate ucraine con strumentazioni e apparecchiature letali e non letali. Il Fondo Europeo per la difesa prevede investimenti in settori critici come sistemi di rapida alerta, cibersorveglianza, contraerei, controffensiva navale, così come anche le capacità di produzione sono state rilanciate. Le prossime settimane annunceremo una decisione importante nell'ambito del programma ASSEP e così la produzione di munizioni in Europa arriverà a 2 milioni di unità entro il 2025. Ecco, tutti questi progressi dimostrano che l'Europa ha iniziato a prendere le misure per far fronte alle sfide che la attendono. Ma c'è ancora altro da fare e dobbiamo essere rapidi in questo perché la minaccia bellica può magari non essere imminente ma non è da escludere. Il rischio della guerra non deve quindi farci temere che questa inizierà domani ma non possiamo sottovalutarla. Quindi dobbiamo ripianificare, ammodernare le nostre forze armate. L'Europa deve anche dotarci di un settore produttivo per quanto riguarda le capacità di intervento sul campo di battaglia, garantendo una quantità di materiale sufficiente e tenendo conto anche della superiorità tecnologica che dovrebbe essere necessaria in futuro. Il che significa ricaricare nettamente la nostra capacità di produzione bellica nei prossimi 5 anni. Dobbiamo partire da un principio di base che è una spesa migliore, maggiore e europea. Noi concretamente nelle prossime settimane faremo delle proposte concrete con la strategia industriale per la difesa europea, il cui obiettivo centrale insieme al programma europeo degli investimenti che sarà di accompagnamento sarà appunto rendere gli appalti pubblici per la difesa una priorità, come siamo riusciti del resto a fare con i vaccini o il gas naturale. In questo modo ridurremo la nostra frammentazione, aumenteremo l'interoperatività. Ad al fine però servirà a mandare un messaggio chiaro all'industria. Ed è per questo che esamineremo come facilitare accordi inerenti a determinati prodotti, prodotti di acquisto avanzati con determinate garanzie. In questo modo la nostra difesa e la nostra industria della difesa beneficerà di stabilità e di prevedibilità a lungo termine. Aumenteremo il sostegno al rilancio industriale come nel caso delle munizioni. Identificheremo anche i progetti di interesse comune per la difesa su cui concentreremo i nostri sforzi affinché ci sia il massimo impatto e il massimo valore aggiunto. Inoltre ci concentreremo sull'innovazione per garantire che l'Europa sia davvero pionieristica nel disporre delle tecnologie migliori disponibili sul pianeta. Questo deve essere il risultato di un vero sforzo europeo unito. Creeremo quindi un ufficio per l'innovazione della difesa a Kiev, il che avvicinerà l'Ucraina ancora di più all'Europa e consentirà agli Stati membri di fare pratica, maturare esperienza sul campo di battaglia in Ucraina nelle innovazioni nell'ambito della difesa. Onorevoli deputati, fare questo passo comune non sarà facile sul fronte della difesa, richiederà decisioni coraggiose, coraggio politico e soprattutto richiederà una nuova concezione della difesa europea, dalle istituzioni all'industria, agli investitori. È per questo che, quanto ha detto il Presidente Calvino, ha ragione nel dire che la VEI sta facendo di più per contribuire a progetti comuni che stimolino la difesa europea. Mi appello allora agli Stati affinché accolgano questa proposta. L'industria della difesa ha bisogno in Europa di accesso ai capitali. inoltre, incoraggio anche gli attori privati a sostenere questo progetto, soprattutto le piccole e medie imprese, perché nel settore della difesa le PMI sono la spina dorsale del settore, sono un vettore di innovazione, sono un fattore critico del mercato unico. È una tematica questa che richiede un'attenzione massima e unitaria. Ecco perché sono favorevole anche all'idea di un commissario alla difesa che abbia solo questo portafoglio nella prossima commissione. Ma non è tutto. È giunto il momento di iniziare un dibattito sull'utilizzo dei fondi confiscati ai russi per l'acquisto di attrezzature militari per l'Ucraina. Nessun simbolo sarebbe più importante per l'Ucraina di come l'Europa sia il luogo della pace o della sicurezza per antonomasia. Onorevoli deputati, è in gioco il ruolo dell'Europa nel prensi responsabilità per la propria sicurezza. Non possiamo permetterci il lusso di un conflitto, non abbiamo il controllo delle elezioni o delle decisioni che vengono prese in altri luoghi del mondo e non abbiamo neanche il tempo di girare intorno alla questione. Con il sostegno dei nostri partner non possiamo lasciare che la Russia vinca. Il costo dell'eventuale vittoria della Russia è troppo, è eccessivo rispetto a eventuali risparmi sugli investimenti adesso. Ecco perché non possiamo esitare ulteriormente.